Il governo cinese ha fatto un'affermazione allarmante. Bitcoin è destinato ad arrivare a zero dollari. Secondo la Cina, la regina delle criptovalute è destinata ad arrivare al suo valore originario, ovvero il nulla assoluto. Ma dobbiamo seriamente preoccuparci di questa affermazione? Cerchiamo di analizzare la situazione più nel concreto. Sappiamo tutti come il mondo delle criptovalute si è stato risucchiato da una caduta libera negli ultimi mesi. Premendo per appunto su questo fatto, la Cina sta cercando in tutti i modi di dissuadere i propri cittadini dagli investimenti in criptovalute. Pi in particolare, l'Economic Daily ha puntato il dito contro l'Occidente, affermando di aver creato un mercato ad alta leva. Un mercato fatto di manipolazioni e di concetti pseudotecnologici che hanno contribuito a rendere molto volatile il Bitcoin. L'Economic Daily poi ha aggiunto che Bitcoin non è altro che una stringa di codici digitali e che i suoi rendimenti derivano dal fatto di comprare basso e di vendere alto. Infine, hanno aggiunto che in futuro Bitcoin arriverà lo zero assoluto quando la sfiducia degli investitori arriverà in massimi livelli e soprattutto quando i stati sovrani dichiareranno Bitcoin illegale. Insomma, la situazione non sembra delle migliori, anche perché stiamo parlando di una delle prime potenze mondiali che sta parlando al mondo intero e sta esponendo le proprie opinioni abbastanza allarmanti. Ma ci dobbiamo seriamente preoccupare. Innanzitutto dobbiamo dire che la Cina è sempre stata contraria al mondo delle criptovalute. Sin dal 2018 gli scambi con l'estero sono stati interrotti, sono stati vietati. E poi a settembre del 2021 è arrivato il ban generale. La Cina non sembra essere dalla nostra parte. Però, contrariamente a quanto afferma il governo cinese, la Banca Centrale dell'Inghilterra dice invece che chi riuscirà a sopravvivere a questo momento piuttosto drammatico in cui le cripto hanno raggiunto livelli bassi e in cui il crollo vertiginoso fa sempre più paura, un domani potrebbero trasformarsi nelle più famose aziende come Amazon e come ebay che sono sopravvissute alla bolla delle dot com companies degli anni 2000. Quindi parole sicuramente incoraggianti rispetto a quanto afferma la Cina e rispetto al fuoco che vuole far creare attorno a questo argomento. Ma quali sono le ragioni che mi inducono a pensare che la Cina si sbaglia e che mi inducono a stare lontano da quanto afferma il governo cinese? La rivoluzione in atto creata da Bitcoin è un qualcosa che sconvolgerà e che porterà miglioramenti nel futuro e ti spiego perché. Secondo me la blockchain è una grande rivoluzione tecnologica. Più in particolare possiamo paragonare l'idea dietro la blockchain all'idea dietro l'avvento di internet, parlando comunque di 20 anni fa. Attualmente noi non riusciamo a vivere senza internet perché ormai costituisce una delle cose più importanti della vita quotidiana. È impossibile vivere un giorno senza poter controllare le notifiche e andare sui social. Ed esattamente come ora internet è diventato prioritario, forse chi lo sa tra 10, 15, 20 anni la blockchain potrebbe diventare indispensabile per la vita di tutti i giorni. Alcune delle crypto che tu adesso segui, in cui hai posto tutta la tua fiducia, ci hai investito perché pensi che in futuro esploderanno, potrebbero realmente costituire la parte dominante della vita di tutti i giorni. Chi lo sa, attualmente il periodo è abbastanza difficoltoso, l'incertezza è tanta, però l'idea dietro la tecnologia della blockchain ha sicuramente un futuro grandioso. Io sono molto fiducioso e non ascolto assolutamente ciò che dice il governo cinese. Una delle più grandi criticità di Bitcoin è che abbia bisogno di una grande quantità di energia e questo è vero, è verissimo, però a contrapporsi alle associazioni che combattono contro Bitcoin e contro il suo negativo impatto ambientale perché ha bisogno di grandi quantità di energia, pochi giorni fa è nata una struttura a energia solare che produce ben 6 megawatt. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che Bitcoin si sta muovendo verso la direzione delle energie rinnovabili. Sai qual è il bello? Il bello è che il 56% di energia totale che Bitcoin usa, che è abnorme, ha bisogno di una quantità di energia pazzesca per poter funzionare correttamente, deriva dalle energie rinnovabili e questa percentuale, attenzione, aumenterà sempre di più e secondo me in un futuro non troppo lontano potrebbe arrivare anche al 100%. Quindi la massima fiducia posta verso le energie rinnovabili e il Bitcoin per quanto mi riguarda è massima e ci credo con tutto il cuore. Ce la faremo! Durante gli anni Bitcoin ha superato tantissime bolle e tantissimi momenti di grande incertezza. Il problema è che tutte le volte veniva dato per morto. Pensa che Bitcoin è stato dato per defunto ben 450 volte, se non di più. E tutte le volte, prova a indovinare cosa si diceva? Si diceva che sarebbe morto, che sarebbe sceso tantissimo di valore, che nessuno avrebbe più comprato, che sarebbe sparito dalla faccia della terra. E ma è successo? Io direi proprio di no. Perché Bitcoin si è sempre rialzato a testa alta ed è andato a rinforzarsi. Secondo me, se attualmente siamo passati da un picco di 69.000 dollari a novembre a ben 18.000 dollari di qualche giorno fa, non è un segnale che tutto sta per finire, che stiamo nella bolla, che sta per scoppiare e che questo mondo sarà destinato a collassare per sempre. Bensì è uno dei tanti momenti difficoltosi che Bitcoin deve superare e che dovrà superare in futuro per poter rafforzarsi sempre di più e diventare parte integrante di una mass adoption. All'inizio si diceva che Bitcoin veniva usato solamente dai criminali per azioni legali nel dark web. E magari poteva anche essere vero. Il problema è che nel corso degli anni Bitcoin ha acquisito sempre più importanza. Tant'è che ora viene usato da dei veri e propri stati come valuta a corso legale. Stiamo parlando di El Salvador e della Repubblica Centroafricana, ma questi sono solamente due dei primi stati che secondo me considereranno Bitcoin come valuta a corso legale. Più in particolare io punto gli occhi sul Messico, una nazione che sembra favorire molto un futuro per Bitcoin in termini di circolazione nel paese della valuta digitale e se dovesse succedere questo saranno dei grandi punti a favore per la regina delle criptovalute. Perché parliamo di un paese con 130 milioni di abitanti ed è un paese vicino agli USA. Secondo alcune indiscrezioni pare che alcune regioni autonome del Portogallo, delle Honduras e del Messico abbiano la massima intenzione di considerare Bitcoin come valuta legale. Non è la certezza assoluta, se arriveranno notizie in merito ne parlerò con tanta voglia e con tanto desiderio con voi, quindi non vi preoccupate perché non vi perderete nulla delle notizie più positive che arriveranno in futuro. Quindi, contrariamente a quanto dice la Cina, io starei su un altro binario e penserei in una maniera completamente diversa. Solo dalla parte della Bank of England penso seriamente che chi sopravviverà a questa tempesta in futuro potrebbe splendere in termini di sviluppo e di successo, staremo sicuramente a vedere. Sta di fatto che è inutile creare allarmismo, è inutile fasciarsi la testa prima di romperla. Viviamo e pensiamo sempre al domani. Grazie a tutti per la visione, spero che questo video vi sia tornato utile, iscrivetevi e ci vediamo prossimamente con tantissimi altri contenuti. A presto, ciao!